Aveva allestito una vera e propria serra di marijuana con alcune piante alte ben oltre i due metri e mezzo ma è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri nei guai e così finito un operaio 42enne incensurato. Le indagini iniziate solamente una settimana fa erano partite da una segnalazione. In una serra agricola ripa di Olmo da tempo si verificava infatti un sospetto via vai così sono iniziati una serie di servizi di osservazione e pedinamento nella zona. Ieri sera l'irruzione dei militari nella serra all'interno hanno sorpreso l'uomo impegnato nella cura di 15 piante di marijuana alcune interrate altre ancora in vaso in avanzata fase vegetativa alcune erano alte più di due metri e mezzo. Nella serra tra attrezzi utensili utilizzati per la coltivazione i militari hanno trovato anche due ventilatori e un trimmer professionale cioè un macchinario utilizzato per trinciare e sminuzzare rami fogli e fiori dal valore di svariate migliaia di euro. I carabinieri hanno poi perquisito anche l'abitazione dell'uomo qui sono stati sequestrati 10 grammi di marijuana, uno di hashish ed un bilancino di precisione. Oltre alle piante i militari hanno trovato anche all'interno di una casetta di legno 163 infiorescenze appese su più fili per consentirne così la corretta essiccazione. In tutto sono stati sequestrati circa 20 chili di marijuana. Per il 42enne è scattato l'arresto in flagranza del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.